Ernando Dos Casas, è sicuramente un personaggio molto affascinante, e pieno di segreti allo stesso tempo. La famiglia di Ernando, alla quale l'uomo era molto attaccato, è probabilmente rimasta vittima di un incendio, e questo spiega il comportamento così misterioso e scontroso di questo personaggio. In effetti, non è facile superare degli avvenimenti così catastrofici, ma col passare del tempo, al paese, la storia inizia ad avere più senso. Si scoprirà infatti che Beatriz in realtà è una delle vere figlie di Ernando, ma Beatriz non sarà l'unica al centro dell'attenzione. Vedremo infatti arrivare a Puentevieco un nuovo personaggio chiave, Damian. Ma di chi si tratta? Camila nel frattempo continua a subire gli sbalzi di umore del marito, che per i motivi appena visti, non riesce ad amare più nessuno. Beatriz pare abbia dimenticato tutto il suo passato, ma a livello inconscio i ricordi sono ancora presenti, ed infatti la ragazza ha spesso terribili incubi, oltre ad avere grossi problemi a parlare. Ma torniamo a Damian, di chi si tratta? Il nuovo arrivato, come scopriremo presto, è un altro figlio di Ernando, ma la vicenda avrà un epilogo più lento. Un altro mistero in paese resterà ancora senza soluzione. Di chi sono i resti trovati dai Yass dentro un pozzo in campagna? Se il segreto ti appassiona, metti un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perdere le nostre migliori anticipazioni. Grazie per la visione!